Era una casa molto carina, senza soffitto, senza piscina, ma era bella, bella davvero, ma era bella, bella davvero. Era una casa molto carina, acqua vera, vita pura. Cari amici, buonasera. Tra qualche istante andrà in un del film comico per tutta la famiglia, il secondo tragico Fantozzi, diretto da Luciano Salcia e interpretato da Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro. A più tardi. Questo programma è presentato da Ingram. Che ora è, scusa, ma che ora è, che non lo posso perdere, l'ultimo spezzacolo. E diceva da mani... Chiara, Chiara, per favore, non ricominciamo. No, no, non lo voglio più vedere. Sì, sì, va bene. Mmm, buoni questi fusilli con le melanzane al dente, che sugo. Questa volta è proprio finita. Eh sì, è proprio finito tutto. Con questi fusilli alla siciliana pronti in padella in cinque minuti, la mia vita è proprio cambiata. Ma che dici domani? Non vi tocciona? Chiara, invece, non cambia mai. Quattro salti in padella Findus, gusto in cinque minuti, per cambiare la vita da così a così. Solo in cucina. Pensavo che gli assorbenti interni fossero difficili da inserire. Poi ho provato il nuovo Tampax Saten. L'applicatore è liscio come seta ed è più facile da inserire. È così delicato, così sicuro. Per questo lo uso sempre e non solo d'estate. Puoi fidarti di Tampax. Gioiello Damiani Ti lega per la vita. Cherubini per migotti Tenerezze di mandorle e miele Ricoperte di cioccolato Impossibile non farsi tentare Cherubini per migotti Il gusto di essere buoni Al Ducca d'Este Usano un nuovo dash Anna Verrone, la proprietaria, ci dice perché La cura che mettiamo nel fare dolci Si vede anche dall'attenzione con cui li presentiamo Il bianco è importante, fa risaltare i colori Mette allegria Perciò qui tutto deve essere bianchissimo Qui il bucato lo facciamo noi Ma con crema e cioccolato Dovevamo pretrattare Si perdeva del tempo Il nuovo dash ha risolto il problema Dash rilascia microbollicine di ossigeno attivo E senza pretrattare Ti dà un bianco straordinario Con il nuovo dash il bucato è sempre bianchissimo Così il bucato a destra è una festa anche per gli occhi Cliente dopo cliente Nuovo dash, più bianco, non si può Portano aiuto e offrono sostegno a tutti Le tue offerte per il sostentamento Fai un'offerta per il sostentamento dei sacerdoti Con il bollettino che trovi in parrocchia e alla posta È il tuo aiuto alla tua chiesa Prese le guide Pagato il mutuo? Ragazzi si passa in banca Telebanca VNL Apre quando vuoi tu Provalo subito con il conto costo zero È la mia banca Così è aperta Così è chiusa Ho fatto il pieno Ci vuole fiducia nell'altro Per essere rapidi, precisi Ci vogliono sicurezza, energia, equilibrio Per una perfetta intesa a due Non è stato facile trovare tutto questo anche fuori dal palcoscenico Dentro un'auto, ad esempio Rover 200 La rivoluzione inglese Da oggi Yodosan è Golamed Golamed 2 senza zucchero Golamed Oral Spray Contro il mal di gora Vittoria sicura Sono medicinali Leggere attentamente il foglio illustrativo Domenica 23, lunedì 24 novembre Gigi Proietti, Ornella Muti Avvocato Porta, Canale 5 TG5 e Canale 5 presentano Esclusivo 5 Silvia, ritorno alla vita Per la prima volta Silvia Melis racconta in diretta i nove mesi del suo sequestro Intervistata da Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana Con testimonianze e collegamenti esterni Esclusivo 5 Silvia, ritorno alla vita Domani alle 20 e 30 Canale 5 Sous-tit La revedere! Grazie a tutti.